Vengo sul serio, è una cosa seria, perché non è un luogo comune questo del profilo migliore e peggiore. Il profilo migliore mio è questo, questo qua, lo vedi? Il peggiore è quest'altro che è questo. È vero? È vero, cazzo? Sì, è molto peggio. Capito? Io riderai subito e sto cagando. A me mi fanno ridere il trozzato. Sono delle cagate che a me mi fanno ridere. Quindi è vera questa storia che... Sembra come se tu avessi una paresi. No, ma il fruttale non si vede, capito? Certo. No, ma adesso però ce l'hai anche da questa parte, però. Ce l'hai sia da questa parte che dall'altra. Delle volte mi confondo.